Sono Ferruccio Novo, orgoglioso di essere il presidente di questa grande squadra. Ora, questa è la prova più difficile che mi aspetta, che aspetta tutti noi. Quei ragazzi che sono morti erano come dei figli, e nulla potrà mai consolarvi del dolore di averli persi. Ma c'è una cosa che voi potete fare per me, per la squadra e per voi stessi. Lo scudetto ci sarebbe stato assegnato comunque, ma io ho voluto ugualmente che voi, i ragazzi del Toro, giocaste le quattro partite che mancano alla fine del campionato. Anche gli altri club, come sapete, schiereranno le formazioni giovanili. Forse, disputando queste partite, potremmo accettare meglio quello che è successo. Forse ci convinceremo che la vita continua. loro avrebbero voluto così. Perciò, giocate e fatevi onore. Grazie. 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 Grazie.